Venga avanti, entri, venga avanti, sembra stanco, si siede. Non è bello eh? Che cosa? Avere tutti dietro, essere braccati. Perché dice questo? Non so cosa avete fatto, avete profanato la chiesa, rubato la statua e adesso tutto il paese vi sta cercando. Metta via, non le serve, non voglio farle del male e non mi importa niente della statua. Vuole un tè freddo? O prevenisce una mano? Si siede. Mi chiamo Santino, non ho paura di lei e non voglio farle del male. Santa Vittoria, la patrona di Nebula di molti paesi di questa zona, la santa protettrice dei contadini. Dicono che avete fatto male anche al parroco. No, non abbiamo fatto male a nessuno. Forse è stato qualche suo compagno dopo che vi siete separati. Se vuole restare qui lo può fare. Mangi qualcosa. Si chiamano pasticciotti, sono tipici di questa regione, ma in paese non li apprezzano molto. Non apprezzano molto nemmeno me, se per questo. Perché? Forse perché non sono fidanzato, non ho moglie, sono sempre solo. È una cosa che non va bene in posti come questi, ma a me non mi importa se sto bene così. Come pensate di andarvene? Hanno detto che hanno chiuso le uscite, che la vostra macchina è fuori uso. Non lo so. Beh, allora, si riposi un po', poi ci penso. È buona, eh? Mio padre aveva un forno in piazza con cinque dipendenti. Una vita di sacrifici, poi la crisi, ha licenziato i dipendenti e ha comprato questo forno più piccolo. Poi qualche anno dopo se n'è andato e me l'ha lasciato. Tutto quello che gli è rimasto dopo una vita di lavoro. In fondo, a bilancia della vita, non va mai impari, no? A bilancia della vita. Si nasconde di qua? Santino! Santino! Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Senti, non hai visto uno dei quattro stanzi che stiamo cercando, no? No, non mi sembra. Non ti sembra? No. Santino, mi sapeva che cosa conta, sai? Ciao, Santino. Ciao. Oei, ti raccomando, sei. Ti doi l'occhio. Ciao, no. Eh, non mi piace. Ciao, no. Mi dispiace. Non si preoccupi. Penso che potrebbe andarsene dai casotti di pietra. Ha presente dove finisce la strada? Sì. Lei va fino in fondo. Trova una serie di casotti di pietra, piccoli. Dietro c'è un grosso casermone. Può fermarsi lì o prendere il sentiero per la cava. Farò così. Prenda questo, per dopo. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.